Il fenomeno delle edicole votive dei clan non è certo cosa recente nella storia della criminalità organizzata a Napoli. Tabernacoli, quadri di madonna, statue a dimensione naturale dei santi e numerosi alterini quasi sempre abusivi si erigono da anni nei vicoli e nei rioni per legittimare i clan e il potere del boss. L'idea è quella di ringraziare platealmente il santo protettore per averli salvati da un agguato o da una vendetta o da una retata. 11 edicole votive riconducibili ai boss dell'alleanza di Secondigliano sono state sequestrate dai carabinieri del comando provinciale di Napoli insieme ai militari del nucleo tutela patrimonio. Un'operazione dal forte significato simbolico che va nella direzione di smantellare i totem dei clan e tutti i simboli collegati alla malavita sul territorio. I manufatti sequestrati nei quartieri del vasto arenaccio di San Carlo all'Arena sono tutti abusivi, costruiti in dispregio di tutte le norme, in alcuni casi anche attraverso il danneggiamento di beni di interesse storico e archeologico come è accaduto per le dico la votiva apposta su una colonna portante dell'acquedotto romano nella zona dei Ponti Rossi. In seguito all'operazione dei militari è arrivato il plauso del consigliere regionale Lega Campania e presidente della Commissione Antica Morra Gian Piero Zinzi. È un segnale tangibile della presenza dello Stato anche a Napoli e in Campania. Bisogna continuare, noi abbiamo lanciato un appello come Commissione Antica Morra già mesi fa che fu accolto da tutte le istituzioni presenti nel nostro territorio e ritengo che sia il modo migliore per ricordare alle tantissime persone per bene che la Campania e Napoli appartengono a loro e non ai criminali e questo è il messaggio più importante che dobbiamo ribadire in ogni occasione.